Bene, intanto ti farò assaggiare la potenza del grande Mazinga. Missile centrale! Va bene. 30. Vedo che sei il solito incosciente, hai appena rischiato di farti mandare l'altro uomo. Non c'è la versione. E poi... Si, si, dopo me recupero. Boss! Stupido idiota, per poco non mi colpivi! Ciao Tetsuya, sono secoli che non ci si vede, come te la passi? Vedo che sei il solito incosciente, hai appena rischiato di farti mandare all'altro mondo. E tu sei il solito sbruffone! Adesso scusami, ma devo andare a sconfiggere il mostro marino. Ciao, ciao! Non cambierà mai. Va bene. Pronti. C30, seconda. Uomo colpibili! Il great Mazinga! Ciao Tetsuya, sono secoli che non ci si vede, come te la passi? Vedo che sei il solito incosciente, hai appena rischiato di farti mandare all'altro mondo. Sì, perché è difficile vedere il Sink quando cambiano comunque così. E tu sei il solito spruffone. Adesso scusami, ma devo andare a sconfiggere il mostro marino. Ciao, ciao! Non cambierà mai. No, i baroni. Ho una forte pazza perché lui è attaccato subito. E tu sei... Sai che ho difficoltà di vedere il Sink quando poi... Eh, ma sei sul cartone... Eh, ma sul cartone poi... Vedo che sei il solito incosciente, hai appena rischiato di farti mandare all'altro mondo. Sì, perché è difficile vedere il Sink quando cambiano comunque così... Ma sai qual è la fregatura? Il cartone animato ha la chiusura netta, quindi o becchi proprio quello... Eh, capito. È sempre una virgola in più, una virgola in meno. 31... C31, sesta, seconda versione. Il Dracosauro! Ma è enorme! Pugno atomico! Grande boomerang! Non lo vedi che sono nei guai anch'io? Dai Sucche? Ah, lo chiama? Dai Sucche? Vieni qui presto, sbrigati. Dannazione! Sì! Dai Sucche! Vieni qui! Sì! Vieni qui, vieni qui presto, sbrigati! Sì, forse è un po' più rapida la prima parte, perché è più legata. Sì, credo che sia più legata. Ma tutte le piste stanno in quell'astro. Perfetto. Incidiamoci 32 terza, prima versione. Maledizione, come faccio a salvarti? Non lo vedi che sono nei guai anch'io? Dai su che... Vieni qui, presto, sbrigati! Maledizione, come faccio a salvarti? Non lo vedi che sono nei guai anch'io? Attarus, vieni qui, presto, sbrigati! Va bene. Maledizione, come faccio a salvarti? Non lo vedi che sono nei guai anch'io? Attarus, vieni qui, presto, sbrigati! Esofago si è chiuso. Dannazione. Sopraccidesse il getto, il petrolio che ci prenderebbe fuoco ed esploderebbe. Che cosa possiamo fare? Troia, voglio usare la mia elica realizzata in su... Sì, va bene. Sì, va bene. Yes. Ci troviamo. Sì, facciamoci il terzo. Scivolo! Non ci voleva L'esofago si è chiuso Dannazione Se ora accendessi i getti il petrolio che c'è prenderebbe fuoco ed esploderebbe Che cosa possiamo fare?